Perché vi sembra normale qua a Torino? Che ti dico, resti a cena tra noi? No, veramente, non voglio disturbare, fa bene. Scusa, tedesco, ma insisti almeno una volta. Io sono siciliana. Io sono abituata a che noi come siamo? Da, resta, no, vera, da, resta, no, vera, da, resta, no, vera, da, resta. E dopo dieci volte resti. Da noi non ti fanno andare via, manco quando te ne vuoi andare via, veramente. Dici, no, ma ne devo andare che c'ho l'aereo. Vabbè, faccio sforzare il volo, ho il mio cugino che lavora in aeroporto. Ma qual è il problema? Uno dice, trovate quel punto d'incontro. Manco un cazzo, ho mai trovato il punto d'incontro, io non lo voglio manco trovare il punto d'incontro. Ma è un segreto, non te lo voglio dire. Ma voglio sapere! Non capisci! E vieni qua, te lo dico, vieni qua, te lo dico. Che vuoi sapere, dimmi, che vuoi sapere. Il segreto.